Nel segno della continuità della nostra attività politica, quale il Movimento Civico a Miamocava, siamo qui a riconoscere il nostro supporto al Sindaco Servale e alla sua amministrazione per quello che già abbiamo fatto nel corso della stessa campagna elettorale al turno di balottaggio, dove ricordiamo siamo stati gli unici a sostenere in maniera aperta, senza nascondersi dietro nessuna posizione di neutralità, il Sindaco Servale. È ovvio che alla base di questo accordo c'è un riconoscimento dei punti cardine del programma elettorale, sia di Enzo Servale che il nostro e quindi sulla scorta di questi punti programmatici noi daremo il nostro sostegno all'attività all'amministrazione senza ottenere nulla in cambio, come nella logica della nostra attività politica, perché rifacendoci a quello che Papa Francesco ha detto ultimamente incontrando Fidel Castro, la politica serve le persone, non le ideologie. Quindi al di là di questo noi siamo stati eletti per servire le persone e cercheremo di dare naturalmente il nostro impegno, ma l'impegno dei nostri candidati, dei sostenitori, dei fondatori del Movimento Civico a favore dell'amministrazione Servale.